Cari amici, un saluto da Nat Russo. Oggi è il 4 novembre. In questo giorno, nel 1737, avviene l'inaugurazione del Teatro San Carlo di Napoli, con la rappresentazione dell'Achille in Sciro di Domenico Sarro, basata sull'opera del Metastasio. Siamo al 1879, anno in cui viene brevettato in Ohio il primo prototipo di registratore di cassa. 1918, nell'ambito della Prima Guerra Mondiale, il bollettino della vittoria annuncia che l'impero austro-ungarico si arrende all'Italia, in base all'armistizio firmato a Villa Giussi nei pressi di Padova. Con il successivo trattato di Saint-Germain-Léi, l'Italia completa l'unità nazionale con l'annessione di Trento e Trieste. 1922, in Egitto, l'archeologo britannico Howard Carter e i suoi compagni trovano l'ingresso della tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re. Nel 1948, Thomas Cern-Hilliot vince il premio Nobel per la letteratura. Nel 1956, truppe sovietiche invadono l'Ungheria per schiacciare la rivoluzione ungherese che era iniziata il 23 ottobre. Migliaia di persone vengono uccise, molte altre ferite, e un quarto di milione di persone lasciano il paese. Il 1960 iniziano le riprese del film «Gli spostati» con Marilyn Monroe e Clark Gaveau. Per entrambi sarà l'ultimo film. 1966, la piena dell'Arno raggiunge Firenze, passando alla storia come alluvione di Firenze. Lo stesso giorno saranno alluvionate anche Grosseto e Pontedera. Il 1966, Venezia viene devastata dalla disostrosa acqua alta che, arrivando a quasi 2 metri, 194 centimetri per l'esattezza sopra il livello medio di marea, somerge la città e tutte le isole della laguna. L'intero nord-est dell'Italia viene colpito da una delle più grandi alluvioni mai verificatesi nell'Europa meridionale. Il 1979 inizia la crisi degli ostaggi in Iran. Radicali iraniani, in gran parte studenti, invadono l'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e prendono 90 ostaggi, 63 dei quali sono cittadini statunitensi. E' il 2003 quando viene osservato il più potente FLAR solare mai registrato. E' un potente brillamento solare che si eleva a 400 mila chilometri sopra la fotosfera. Nel 2011 avviene un'alluvione devastante per Genova. I torrenti fereggiano e Bisagno esondano. Si raggiunge la piena dei torrenti Sturla e Scrivia. Avviene con la stessa potenza di quella del 1970 causando sei morti. Tra i quartieri colpiti si segnalano Quezzi, Marassi, Foce, Brignole, San Fruttuoso e Sturla, oltre che alcuni vicini comuni. Per oggi è tutto. Un saluto da Nat Russo. A domani.